Facci un altro modo. Parliamo con Nicolò Tonon della vittoria. Nicolò il tuo gol ha cambiato la partita, ha spianato la strada al Pergo. Sì, sicuramente. Stavamo soffrendo un pochino e con il mio gol siamo tornati a prendere in mano il gioco e poi Carletti l'ha chiusa. Nel primo tempo però un po' di sofferenza, insomma Seregno si è visto che era un'ottima squadra. Sì, Seregno non c'è dubbio, è un'ottima squadra, gioca bene, ha degli interpreti importanti, solo che si è trovato davanti al Pergo oggi e ha perso 3-1. Una vittoria arrivata nel secondo tempo, soprattutto nelle altre gare, insomma avevate fatto un po' di fatica nel finale delle partite, oggi no? Sì, sicuramente grazie agli innesti, Dimash che è entrato, Xamo e tutti gli altri che sono entrati, grazie a loro siamo riusciti a chiudere bene. Più una questione psicologica o anche fisicamente state meglio? Sicuramente adesso stiamo crescendo anche sul piano fisico, ci alleniamo bene, stasettimana abbiamo spinto parecchio, quindi è normale che i risultati poi si vedano. Il duello con il Monza come lo vedi? Come lo vedo? Adesso mancano altre partite prima del Monza, quindi ci concentriamo più che altro sulle altre e poi quando sarà tempo di andare la Monza faremo il meglio per vincere. Sarà una super partita qua? Sarà una super partita sicuramente. Sarà una super partita.